amici di Atisport 24 bentornati torna Telescopio Azzurro e vigilia di Champions League e vigilia di ottavi di finale domani al Deutsche Bank Park Stadion l'andata degli ottavi appunto tra Entracht Francoforte e Napoli eh per parlarne è con noi la colonna una delle colonne del nostro canale il giornalista Gennaro Perna ciao Gennaro bentornato e siamo pronti per questo grande appuntamento ciao Andrea un saluto a te ai nostri spettatori e sì certamente domani domani sera Andrescena una partita interessante come dicevi tu importante per entrambe le squadre ma soprattutto per per il Napoli ma ne parleremo approfonditamente nella chiacchierata che che faremo tra poco e io inizio la nostra chiacchierata dal match di venerdì sera e il Napoli sbanca autorevolmente il Mavei Stadium imponendosi due a zero con le magie di Varaschelia e Osimene accettando anche nella ripresa qualche momento di sofferenza con il Sassuolo proteso all'attacco perché il Napoli riesce a dominare tutti i suoi avversari però tra i tanti forse il Sassuolo è stato una delle squadre che ha provato a giocare ti chiedo qual'eredità lascia gli azzurri la vittoria di venerdì? Allora eh concordo sull'analisi che hai fatto sul Sassuolo devo dire anche l'episodio dopo dopo l'uno a zero eh con il palo preso dai dai neroverdi è stata sicuramente eh una squadra che ha provato quella di Dionisi che ha giocato al calcio e ha giocato si è confrontata con il Napoli il Napoli onestamente è una meritava la vittoria ed è una squadra che comunque ha delle individualità superiori. Tu facevi riferimento a Quara e Osimene ma sono tante le convinzioni e e gli uomini che sono a a proprio agio diciamo in questo scacchiere azzurro in questa stagione. Eh detto questo che cosa cosa lascia quella partita? Lascia sicuramente la convinzione ai partenopei di essere sempre in grado nel campionato italiano di trovare soluzioni a qualsiasi tipo di problematica a qualsiasi tipo di avversario. Il Napoli ha dimostrato e eh e ne ha avuto la conferma venerdì sera di avere più spartiti tattici e la capacità di adattare i propri uomini alle varie situazioni di gioco. Quindi questo penso che sia tatticamente soprattutto eh la grande risposta e grande bagaglio che i partenopei porteranno a casa hanno portato a casa venerdì e porteranno con loro nella trasferta eh tedesca. Con un titolo che è autorizzo qui gli scaramantici ad effettuare tutti i rituali del caso sembra al momento ipotecato. L'attenzione ora si può spostare sul cammino europeo? allora il Napoli è in una eh posizione in campionato di punteggio comoda nel senso che può eh provare a solitamente in queste queste squadre che hanno sicuramente nel nel come il Napoli in questa stagione che hanno sicuramente nel campionato il loro obiettivo primario eh in molte situazioni tendono a a giocare la coppa quasi come se fosse tra virgolette un problema no? Seppur la Champions dal punto di vista economico e di budget è una è una grandissima manifestazione. Detto questo il Napoli adesso invece ha tutte le potenzialità e le possibilità di giocarla eh al meglio con i suoi uomini migliori sia perché ha una rosa lunga e quest'anno l'ha dimostrato eh sia perché come dicevi tu c'è un vantaggio in campionato al momento rassicurante ed è difficile intravedere come il Napoli possa eh tra virgolette andare in difficoltà eh in campionato eh la coppa è situazione sicuramente diversa ci sono valori diversi eh come dire anche un'ambientazione diversa sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista psicologico scontri diretti eliminazione diretta a questo punto e squadre agguerrite siamo tra le prime sedici d'Europa eh quindi detto questo eh il Napoli ci arriva ci arriva bene come meglio non potrebbe sul campionato poi eh sai come la penso secondo me l'obiettivo che il Napoli deve avere quest'anno è puntare fortemente al campionato e vedere cosa succede in Coppa e nelle condizioni di poter di poter dare il proprio meglio anche anche in Europa e l'hai detto tu cambia la tipologia di match ti chiedo eh si passa da una fase a gironi nella quale il passo falso può essere anche ampiamente recuperato a un doppio confronto ad eliminazione diretta e chi sbaglia nell'arco dei 180 minuti va inesorabilmente a casa questa è una squadra che sta macinando gioco spettacolo e sembra veramente divertirsi ogni volta ad alzare un pizzico l'asticella e a aggiungere un piccolo pezzetto a un puzzle che finora è veramente meraviglioso c'è uno step di crescita da compiere per vivere al meglio questa tipologia di sfide perché parliamo di una squadra dilagante ma che forse se vogliamo cogliere il pelo nell'uovo non ha un roster con pluriannale esperienza in questi a questi livelli allora questa hai toccato secondo me il tasto il tasto fondamentale questa allora il Napoli non deve commettere l'errore di arrivare a questa partita come se tra virgolette le cose fossero semplici nel senso che ci arriva io ricordo per rendere completa la tua analisi che comunque e lo vediamo tra un po' si va contro i vincitori dell'ultima Europa League bravissimi e i vincitori che in quell'Europa League eliminarono poi se non erro il Barcellona che aveva eliminato a salotto il Napoli dominando al Maradona quindi io ti dico che è un ambiente totalmente diverso il Napoli deve affrontarla come se fosse veramente un ulteriore esame esame di maturità sono calciatori come hai detto tu i quelli partenovei non abituati a giocare in questo tipo di di competizioni con questa pressione e anche con una fisicità contro una fisicità che in Europa è sicuramente diversa in Italia non ci sono molte squadre capaci anche dal punto di vista fisico di mettere in difficoltà calciatori come quelli del Napoli penso a Osimeno soprattutto piuttosto che in difesa a Kim o a Rachmani eh però l'Europa è una cosa diversa e la pressione sarà tanta io sono sicuro che che l'allenatore il nostro allenatore l'allenatore partenoveo eh Spalletti possa essere il valore aggiunto per tentare di di evitare quello a cui facevi riferimento tu cioè un abbassamento di tensione una una paura di eh subire troppo la pressione perché questi sono palcoscenici importanti e alimentare quel sogno che come dicevi tu è eh lo storico passaggio tra le prime otto d'Europa cosa mai successa ai partenovei quindi una partita tutta da gustare ma non da sottovalutare cosa vorrebbe dire per il club lo hai detto tu passare il turno vuol dire per la prima volta nella storia stare tra le migliori otto del massimo torneo continentale questo traguardo cosa significherebbe per la società significherebbe tantissimo io eh ricordo a tutti che comunque eh diciamo che il il Napoli non è una squadra eh abituata a vincere con continuità tanto tanto meno in Europa ha recitato del ruolo da protagonista ai tempi diciamo che furono di di Maradona e devo dire anche negli ultimi anni eh anche in Champions ha disputato delle delle ottime Champions e degli ottimi campionati però non è una squadra abituata a frequentare come dire i quarti di finale non c'è mai arrivata come hai detto tu eh nei quarti sì eh no no il semifinale di Europa di Champions sarebbe la prima assoluta la prima volta e quindi come dire è una è una situazione per la città per la per la squadra che sarebbe un ulteriore step di crescita per poi tentare attraverso questa crescita tu dicevi prima di alzare via via la sicela no il tentativo poi che questa rosa che la società tutta che l'allenatore il i tifosi piuttosto che i dirigenti possano provare nuove sensazioni alzando la sicela potrebbero poi portare all'apertura di un teorico ciclo perché questa squadra è una squadra almeno in Italia che gioca all'unico calcio europeo forse l'Atlanta gioca un calcio europeo simile a quello dei partenopei come approccio alla gara e quindi si potrebbe aprire addirittura un ciclo però piedi per terra e e grande concentrazione per affrontare questo obiettivo che come dicevi tu è unico per i partenopei e domani chiudiamo così la nostra chiacchierata andando proprio nel vivo dell'aspetto tecnico in programma all'andata degli ottavi contro l'Aintracht che match è quello di domani sera? Allora l'Aintracht è una squadra che gioca allora che in questo momento eh eh penso sia noto a tanti tifosi eh curiosi ecco della delle delle sorti del Napoli è tra le prime le prime sei e la e alla sesta posizione nel campionato tedesco ha soltanto cinque punti dalla prima dalle prime che poi sono tre a pari merito quindi è una squadra eh alla ventunesima giornata quindi con ancora tredici partite da giocare perché eh quella quella la Bundesliga è un campionato a diciotto squadre quindi ci sono ancora tredici partite da giocare ancora tanti punti in pali e quindi è una squadra che può tranquillamente tornare in Europa addirittura potrebbe ancora matematicamente sognare anche il titolo eh quindi è una squadra che gioca un calcio eh propositivo con un tre quattro uno due eh o qualche volta anche due uno dipende poi da gli attaccanti che schiera con il Colomanì che poi la punta di amante in attacco che poi sarebbe nella partita di domani l'avversario l'alterego del nostro Simen nel tentativo di presentare questa partita con i due attaccanti principali eh quindi una squadra sicuramente eh pericolosa una squadra che punterà eh ad andare avanti ad andare avanti è arrivata seconda nel proprio girone è una squadra terribile come hai detto tu ha vinto l'Europa League lo scorso anno quindi è una squadra più abituata dei partiti europei a recitare un ruolo da protagonista in Europa e quindi è una squadra che proverà a produrre calcio e il Napoli deve come abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata sapersi adattare a ciò che proverrà il L'Aintracht e mettere in campo le sue armi che sono tanti poi io eh immagino nei tre uomini più importanti che sono Lobot, Takvara e Osimeni in questo momento insieme a Kim in difesa coloro i quali poi dovranno trascinare i partenopei a cercare di far risultato già in terra tedesca per poi tornare al Maradona e giocarsi il passaggio del turno. Va bene chiudiamo così la nostra chiacchierata ringrazio come sempre Gennaro Perna per il suo prezioso contributo e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Gennaro grazie mille. Un saluto a te Andrea e il solito invito ad iscriversi al canale. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.